L'oroscopo di Astra Ben trovati in appuntamento con l'oroscopo, scopriamo quali sono i consigli delle stelle per mercoledì 14 ottobre. Ariete, se il dovere chiama, se l'orizzonte è piatto, c'è poco da inventarsi, se non sbrigare in fretta gli affari consueti, cercando di limitare omissioni ed errori. Di buono c'è che oggi hai il pieno controllo delle emozioni, persino in amore. Toro, la grinta può non bastare, specialmente se l'emotività è il sopravvento, perché se qualcuno oggi si mette di traverso, di sicuro non stai a guardare. I dispetti della luna rischiano di rovinare il clima di serenità in coppia. Gemelli, stai sulla difensiva, ma almeno non sbagli le decisioni che contano davvero. Con Mercurio alleato, come in questo periodo, è più facile valutare in maniera obiettiva le tue reali probabilità di riuscita. La passione vacilla. Cancro, c'è la luna del giorno a ispirarti, a indicarti la strada più breve per recuperare il terreno perduto. Se cerchi una nuova fiamma, se speri di trascorrere una serata romantica con chi ami, la strada è in discesa. Leone, intestardirti, puntare tutto sull'orgoglio è l'errore da non commettere, perché se rifletti, se ragioni su ciò che ti succede, puoi scoprire che il terreno è meno minato di quanto credi. Il tuo lato sexy oggi è ben stimolato. Vergine, col vento a favore è più facile accelerare e puntare diritto all'obiettivo. Se c'è un'occasione da cogliere al volo, un affare da concludere in bellezza non ti fai pregare. Girano a pieno regime l'amore e l'eros con venere e marte nel segno. Bilancia, all'attenzione, al lucido ragionamento oggi puoi abbinare il senso pratico. Ciò che non puoi sperare invece è che siano gli altri a toglierti le castagne dal fuoco. Devi farlo in prima persona e ne hai la possibilità. Scorpione, il vento è proprio aggirato e ormai ispira a favore. Ora puoi rilassarti, sorridere e provare a divertirti. In tuo soccorso oggi c'è pure la luna nel segno. Se cerchi una nuova fiamma, se vuoi essere felice con chi ami, la strada è in discesa. Sagittario, la mente che gira a pieno regime è la tua migliore opzione, perché con l'attuale livello di grinta, di organizzazione, di senso pratico non vai da nessuna parte. E in affanno anche l'amore. Venere è un'arpia. Capricorno, la buona notizia è che la luna del giorno non si mette di traverso. Restano da risolvere dubbi, situazioni da valutare con estrema attenzione. Può marciare a pieno regime invece la passione. Venere è alleata. Acquario, il tuo spirito ribella in onda, stimolato dalla luna del giorno. C'è che non ti piace seguire le mode e fare ciò che tutti fanno. A volte però può bastare il buonsenso per rimediare un errore. Il vento in amore oggi è contrario. Pesci, ti lasci cullare dalle emozioni e attivi l'intuizione. La luna del giorno può aiutarti a districarti tra le difficoltà in questo periodo, specialmente negli affari di cuore. Occhio alle spese, il piatto continua a piangere. Ed è tutto per oggi con l'oroscopo di Astra. Grazie per l'attenzione.